ok ok guarda un po' di fattura ok 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 stai già facendo eh? stai già facendo eh? stai già facendo eh? ok occhio alla testa tu eh come ne vado? come ne vado? ok 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 ahahah ah che poi corri 2 metri perchè non c'è nulla cosa che ho andato No, no. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.